e qua a questa signora ciao Lidia da dove vedi Lidia? no dalla Polonia c'è venuta a posta per l'estate è venuta a posta è venuta a posta anche te non si cosa fai la mia vita? no lavori lavori l'Italia è venuta a posta però adesso non vai più una volta l'era, adesso è un po' meglio ma scopre a cui vorresti un uomo in Italia? l'uomo venendo il mondo del tuo cuore non lo sa l'uomo che fa le più le farfalle non so fra questi chi è che non va a venire il farfalle? bisogna sentire bisogna sentire ecco giù ragazzi grazie 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 grazie